Emma, pseudonimo di Emanuela Marrone, è una cantautrice italiana. Dopo alcune esperienze nell'ambito musicale con diversi gruppi, è salita alla ribalta come cantante solista tra il 2009 e il 2010 per il suo lavoro. Emma Marrone è costretta a viaggiare molto. Chi decide di intraprendere questo genere di professione sa bene quanto sia importante avere una mentalità aperta, avere grinta ed energia da vendere. E possiamo dire con certezza che la cantante pugliese non ha di questi problemi. Tuttavia, proprio a causa o per amore della musica, come Emma stessa direbbe, è stata costretta a guardare negli occhi il suo terrore più grande, la sua fobia. In una storia postata sui social, dove è seguita da più di 6 milioni di followers, la donna ha lanciato un messaggio nel quale era visibilmente in difficoltà, scrivendo aiuto. Vediamo insieme come è accaduto. Nella storia pubblicata da Emma, vediamo la donna a bordo di un aereo, con un'espressione seriamente preoccupata e una didascalia che parla per lei, io soffro solo per la musica. Che sia chiaro. La cantante, infatti, odia volare, ma in questo caso era stata costretta a salire su un aereo per partecipare a un evento. Erano ben due anni che Emma non prendeva un volo, e il suo viso terrorizzato la dice lunga su come sia andato il viaggio. Nonostante questo, però, la grinta della donna non si è smentita e ha dimostrato di essere in grado di fronteggiare anche le sue paure più grandi. Per amore della musica.